In primo piano l'impegno per fronteggiare l'emergenza covid dalla sicurezza delle persone alle necessarie azioni di difesa e salvaguardia delle attività economiche. Tutto quanto è stato coordinato e promosso dalla prefettura di Salerno nell'anno che sta per concludersi ha avuto questo obiettivo preciso combattere la pandemia senza dimenticare però le altre emergenze come il rischio idrogeologico, la viabilità, la sicurezza sul lavoro che non hanno risparmiato il territorio provinciale di Salerno. Il fatto del lavoro che è stato fatto? Non si deve mai essere del tutto soddisfatto perché significa che poi mancano gli stimoli però dubbiamente di lavoro ne è stato fatto tanto, un po' da tutti, sono diciamo momenti estremamente difficili, c'è stata una certa ripresa ripeto per fortuna l'estate, fra l'altro anche con il ritorno consistente del traffico sulla costiera amalfitana che è sempre uno degli argomenti fondamentali di nostro interesse e di impegno rispetto un po' in generale alla situazione della provincia così come, ecco, visto che abbiamo cominciato questo filone della viabilità, l'estrema fragilità del territorio, la stessa costiera amalfitana con la frana di Amalfi, la più grave, ma non solo, spesso viene ad essere interrotta la viabilità lì, diciamo, sulla nostra divina, ma anche il resto del territorio è estremamente complicato per cui si deve intervenire più volte, ho fatto vari incontri anche con i sindaci, sempre cercando appunto, nell'ottica che ho cercato di mantenere sempre, che mantengo un po' in generale nella mia attività di prefetto, tenere compatti i territori, di coinvolgere tutti, per fortuna devo dire la modalità online ci aiuta, che consente a tutti di rimanere alla propria postazione di lavoro e consente comunque di affrontare le questioni in maniera, diciamo, esaustiva, anche senza vedersi... Ha fatto della sicurezza del territorio, intesa come difesa sul fronte idrogeologico, una delle sue priorità, ma anche la sicurezza intesa come garanzia dell'ordine pubblico, un obiettivo da perseguire, soprattutto in periodi in cui l'emergenza ci ha resi più fragili tutti. Certo, tra l'altro questo è un argomento, diciamo, come dire, delicato ed importante, perché evidentemente l'impegno legato ai controlli sul coronavirus evidentemente prendono anche delle risorse maggiori delle forze di polizia. Si è molto lavorato sulla videosorveglianza, ci sono vari progetti in campo, alcuni progetti legati ad una videosorveglianza e comunque ad un maggior controllo del territorio finalizzato, diciamo, a combattere la diffusione della droga e vorrei ricordare in questo proposito le molteplici, diciamo, operazioni delle forze di polizia sotto la guida della Procura della Repubblica, in cui veramente sono stati toccati gangli anche importanti della filiera del controllo dello spaccio di stupefacenti, insomma.